Buonasera amici, benvenuti in un altro giorno di dieta, anche oggi con un inizio differente dai soliti, questa mattina non avevo assolutamente fame, quindi non ho fatto colazione, poi sono uscita e sono tornata alle due e mezza passate, quindi mi sono fatta diciamo un finocchio e l'uva, avevo fame ma non tanta fame da prepararmi qualcosa, dopodiché comunque noi ci andiamo abbastanza presto, 6 e mezza, 7, quindi ho preparato la cena e ho fatto degli straccetti di pollo con peperoni, qualche pomodorino e ci ho fatto un piatto in unico, come sapete i piatti unici io li adoro, mi sbizzarrisco, anche per mio marito ovviamente questa è stata la cena che ho preparato, molto buona devo dire la prima volta che facevo questo diciamo miscuglio, chiamiamolo così, però è veramente molto molto buono, è nutriente, è sano e comunque sia è un piatto diciamo completo, questa è stata la mia giornata, sì un po' corta e ovviamente non dovete prendere esempio da me, ma purtroppo ci sono delle giornate che vanno anche così per svariati motivi, in ogni caso questa è stata tutta la mia giornata, ciao ciao!